Ho pensato a una pappardella farcita, che la pappardella di solito è una sfoglia seghettata e basta. Invece io l'ho chiusa e ho formato un raviolo gigante. Ho creato delle forme icona, tipo la nostra piramide, con questo ripieno di cipolle di certaldo. Qua abbiamo la chiusura dei due lambi, così, laterale, e poi apriamo qua e chiudiamo di qua. Questo è un piatto signature del 1990, ha avuto un successo veramente importante. La lista continua con la mezzaluna, sempre con la cipolla in questo caso, quindi una forma tipo cresta di gallo e che richiama il nostro gallo del Chianti. Togliamo l'aria e diamo cinque pieghe laterali. Uno, due, tre, quattro e cinque. Alla fine chiudiamo, abbassiamo. È anche bello da vedere, ecco.